Ok, allora iniziamo con la prima parte dell'esercitazione di Richards. Innanzitutto iniziamo dicendo qual è l'obiettivo di questa esercitazione e sapete benissimo cos'è l'equazione di Richards e a cosa serve. Con l'equazione di Richards noi studiamo quello che è il moto di infiltrazione all'interno del suolo e l'obiettivo di questa esercitazione è quello di ottenere quei profili che il professore vi ha mostrato a lezione, quindi il profilo del contenuto d'acqua rispetto alla profondità o della suzione rispetto alla profondità e di altre variabili che poi successivamente vedremo, risolvendo appunto quella che è l'equazione di Richards nel caso monodimensionale, cioè considerando la variazione appunto lungo la direzione z. Ora per studiare l'infiltrazione all'interno del suolo noi abbiamo bisogno prima di tutto di un metodo numerico che vada a risolvere l'equazione poiché l'equazione di Richards come vedete è un'equazione alle derivate parziali molto complessa anche se non sembra ma è molto complessa è numericamente difficile da risolvere per questo tantissimi studiosi tra cui uno dei vostri professori dell'Università di Trento il professore Casulli ha messo appunto un metodo numerico per risolverla e poi successivamente questo metodo numerico è stato invece implementato nel modello che voi utilizzerete per questa esercitazione da Nicolo Tubini un ingegnere dottorando del professore Rigon il quale appunto ha implementato questo modello implementando anche diverse parametrizzazioni delle curve di ritenzione idrica voi sapete cos'è la curva di ritenzione idrica quindi non mi soffermo su questo detto ciò allora prima dal momento che deve essere una lezione collaborativa vorrei farvi una domanda anche che sembrerebbe banale dal momento che sarete ingegneri è una domanda che non c'entra quasi nulla con la parte idrologica però vorrei chiedervi e vorrei che qualcuno mi rispondesse secondo voi qual è l'elemento progettuale che sta alla base di un edificio? però non mi rispondete tutti insieme cioè se voi dovete costruire una casa dico sarete ingegneri alla base di una casa cosa ci sta? le fondamenta bravissimo chi sei? io Lorenzo Lorenzo ok le fondamenta le fondazioni le fondazioni le fondazioni le fondazioni quindi le fondazioni praticamente stanno alla base di una casa perché vi ho fatto questa domanda? per farvi capire una cosa importante del modello di research perché è una cosa su cui molto spesso si sbaglia in cui anche io ho sbagliato cioè per poi girare il modello di research noi abbiamo bisogno di creare la struttura sulla quale il modello deve girare che è una griglia una griglia di calcolo cioè se voi immaginate appunto questa colonna di suolo che vedete qui a sinistra noi dobbiamo capire come l'acqua si infiltra all'interno di questa colonna di suolo e per capirlo però abbiamo bisogno di una struttura sulla quale andare a calcolare le varie grandezze e questa struttura è proprio una griglia questa griglia così come vedete è caratterizzata da diversi punti che si chiamano centroidi e in ogni punto che ovviamente si sviluppa lungo la verticale della griglia noi andremo a noi il modello implementato da Nicolò con la soluzione del professore Casulli andrà a calcolare la soluzione la soluzione che sarà la soluzione il contenuto d'acqua o quello che si voglia al cambiare del tempo quindi abbiamo detto che le fondamenta fondazioni di questo modello è la creazione della griglia quindi come prima cosa noi dobbiamo creare la griglia una volta creata la griglia poi possiamo passare a fare girare il modello infatti è la parte 2 dell'esercitazione il run del modello e dopodiché andremo a visualizzare i risultati attraverso ovviamente l'utilizzo dei notebook di Python allora per creare la griglia quindi oggi noi parleremo di questo di come si crea la griglia perché è importante che voi capiate come si crea perché è la base su cui si andrà a sviluppare tutta l'esercitazione quindi sbagliando questo si sbaglierà a seguire tutta l'esercitazione quindi la griglia è rappresentativa della nostra colonna di suolo quindi come prima cosa noi dobbiamo avere in mente il suolo che vogliamo rappresentare e di questo suolo dobbiamo individuare quelli che sono gli strati omogenei come per esempio vedete nella colonna di suolo qui a sinistra noi abbiamo, tralasciando l'ultimo quello bianco noi abbiamo tre strati omogenei caratterizzati quindi da caratteristiche simili di questi strati omogenei una volta che li abbiamo individuati dobbiamo definire la loro profondità quindi ovviamente in direzione z dobbiamo determinare o ipotizzare o li prenderemo da delle tabelle che vi fornirò i parametri delle curve di ritenzione idrica dobbiamo poi ipotizzare una condizione iniziale della soluzione perché? allora il modello di research abbiamo detto che calcola la soluzione in ogni punto della griglia al variore del tempo ora iniziando dal tempo zero il modello non può calcolare nulla se non ha delle variabili di input la variabile di input è proprio la condizione iniziale al tempo zero che noi diamo affinché poi il modello una volta inizializzato possa calcolare la soluzione al tempo uno e poi utilizzando la soluzione al tempo uno calcolare la soluzione al tempo due quindi dobbiamo definire tutte le caratteristiche della colonna di suolo compresa la soluzione al tempo zero affinché il modello possa appunto girare si possa eseguire tutte queste informazioni noi le dobbiamo inserire all'interno di un semplice file csp quindi utilizzando notepad o qualunque foglio di note voi preferite dobbiamo creare un file dobbiamo creare un file in cui abbiamo tutte queste informazioni allora per quanto riguarda la griglia perché mi sentirete parlare di centroide volume di controllo quindi dobbiamo capire come è strutturata una griglia allora una griglia se guardiamo un attimo questa colonna di suolo tralasciando sempre la parte bianca abbiamo detto che ci sono tre strati di terreno di colore diverso ognuno avrà una... saranno diversi questi tre strati di terreno per essere rappresentati nella griglia appunto vengono caratterizzati da queste linee rosse quindi tra una linea rossa ed un'altra la successiva vi è uno strato di terreno e questo strato di terreno nel modello prende il nome di layer è uno strato di suolo appunto ogni strato di suolo quindi ogni layer viene diviso in volumi di controllo come vedete qui vi ho indicato questo volume di controllo colorato di celeste questo è un volume di controllo con il quale si discretizza un layer quindi se noi abbiamo per esempio il primo layer il primo layer decidiamo che deve essere diviso in dieci volumi di controllo quindi noi avremo dieci di questi quadratini che vedete qui in figura che saranno appunto dieci volumi di controllo e ogni volume di controllo è caratterizzato da un centroide che è il suo centro di massa o baricento come lo volete chiamare e all'interno del centroide il modello andrà a computare la soluzione al tempo n quindi se siamo al tempo 0 al tempo 0 no al tempo 1 andrà a calcolare la soluzione al tempo 1 all'interno del centroide e la grandezza che viene calcolata nel centroide è caratteristica di tutto il volume di controllo dopodiché invece l'interfaccia è diciamo la superficie che separa due volumi di controllo successivi si chiama appunto interfaccia dei volumi tre volumi di controllo allora per andare a creare la griglia di calcolo si utilizza un notebook un notebook già preparato da Nicolò un notebook che ha bisogno del file CSV di input e per scegliere il notebook voi dovete scegliere la parametrizzazione che volete utilizzare per la curva di ritenzione cioè se volete utilizzare una parametrizzazione di Vangenupen che è quella che avete visto a lezione oppure altri tipi di parametrizzazione che sono implementati all'interno del modello non so se li avete visti ma comunque sia sono le parametrizzazioni di Duxencore i Kosugi e Romano che sono altri tipi di parametrizzazione delle curve di ritenzione idrica che ovviamente si basano su parametri ovviamente diversi e che ovviamente daranno anche risultati diversi quindi scelta la parametrizzazione andiamo a creare il file CSV supponiamo di scegliere la parametrizzazione di Vangenupen e il file CSV che dovete creare è praticamente questo di qui dove c'è scritto type, eta, n queste 1, 2, 3 queste 5 righe che vedete qui riportate come file CSV che però vi ho riportato anche in basso in forma tabellare per essere più chiare ora vi spiegherò ad uno ad uno cosa sono questi termini allora iniziamo con il type allora vedete qui noi abbiamo 4 righe queste 4 righe la prima e l'ultima riga è importante che vi ricordiate che devono essere sempre di tipo L dove L identifica un layer cioè noi all'interno del suolo possiamo avere secondo queste impostazioni del modello possiamo avere o layer o punti di misura i layer sono come vi ho detto poc'anzi quelle linee rosse quindi tra per capirci un layer abbiamo detto essere quello compreso tra la prima e la seconda linea rossa quindi ne avremo delle informazioni per quanto riguarda la prima linea rossa che è un layer la seconda linea rossa e così via quindi L identifica un layer mentre M sono dei punti di misura supponendo che noi all'interno del suolo abbiamo dei punti in cui sono state campionate le soluzioni o il contenuto d'acqua possiamo introdurre all'interno del modello queste informazioni e deve essere appunto identificato con M un'altra informazione da inserire è ETA ETA è la coordinata verticale del suolo quindi la Z sostanzialmente che però è positiva verso l'alto quindi tutte le profondità che voi andrete a inserire all'interno del file CSV devono essere negative come vi ho riportato qui per esempio abbiamo quindi 0 è il primo layer poi abbiamo meno 2 il il secondo layer che in realtà è il primo capitemi c'è tra 0 e 1 c'è il primo layer tra 1 e 2 il secondo e tra 2 e 3 il terzo e M invece il punto di misura posizionato appunto ad una profondità di circa meno 3 e le unità di misura qui sono in metri l'altra informazione da inserire è il numero di volumi di controllo poc'anzi vi ho detto che all'interno di un layer noi possiamo avere diversi volumi di controllo che dovete scegliere voi e ovviamente all'aumentare del volume di controllo del numero di volumi di controllo aumenteranno ovviamente i centroidi perché il centroidi si trova all'interno del volume di controllo aumentando il numero di volumi di controllo aumenterà il tempo computazionale però aumenterà anche il dettaglio e l'accuratezza della soluzione quindi in genere quando si vogliono fare delle soluzioni di fino quindi delle soluzioni buone si sceglie un numero di controllo tale per cui la dimensione del volume di controllo viene di un centimetro comunque poi per questo ci penseranno si potrebbe anche se noi abbiamo più layer mettere per esempio nel primo layer 320 numeri e volumi di controllo dato che siamo vicino alla superficie in cui per esempio a causa della pioggia o di una forza antesterna si possono avere dei gradienti dei gradienti maggiori e di conseguenza di carico totale si possono avere dei gradienti maggiori di conseguenza avere più volumi di controllo è un'ottima soluzione e invece si possono avere invece meno volumi di controllo nei layer successivi Concetta se mi consenti un'osservazione qui c'è un numero straordinariamente grande di elementi di griglia ma questo anche perché il programma poi gira molto velocemente però qui non è necessario avere si potrebbe avere dieci volte di meno i punti di griglia e ancora ottenere dei risultati ragionevoli considerate infatti che lo spazio tra due punti di griglia successivi qui è assolutamente inferiore alla scala di Darcy cioè quindi i fenomeni che in realtà vengono descritti per ciascun punto di griglia non sono dei fenomeni realistici ma rappresentano una media su un volume di controllo ben più grande che è la scala di Darcy questo per diciamo per completezza della della comunicazione certo con tutti questi punti l'accuratezza della soluzione è molto grande e anche le curve che poi voi ottenete sono molto diciamo sono molto curve cioè sono molto belle da vedere mentre altrimenti se scegliete meno punti possono essere assai più meno meno belle meno belle ok quindi dopo il numero di volumi di controllo andiamo alla soluzione abbiamo detto poco fa che uno dei dati che dobbiamo fornire è la condizione iniziale della soluzione e per quanto riguarda la soluzione possiamo scegliere tra tre tipi di condizione iniziale cioè questa può essere idrostatica costante o data di interpolazione lineare allora la condizione iniziale idrostatica appunto si ha nel caso in cui l'andamento della soluzione è lineare con la quota e di conseguenza il carico idraulico complessivo è nullo quindi non si hanno gradienti di carico idraulico quindi non si ha moto ora in questo caso no in questo caso le altre condizioni possiamo avere appunto una condizione iniziale costante o da interpolazione lineare l'interpolazione lineare si può utilizzare quando si hanno dei punti di misura come in questo caso poiché il modello calcolerà la condizione iniziale andando a interpolare il valore di soluzione tra l'ultimo layer quindi il fondo il punto di misura se eventualmente ci sono altri punti di misura all'interno della colonna di suolo è il layer in superficie dopodiché se in superficie vedete in questo caso abbiamo inserito 0.1 0.1 in questo caso significa che vi è dell'acqua al di sopra della superficie in particolare qui 10 cm in quanto anche qua la psiva è inserita in metri e di conseguenza nel caso in cui noi inseriamo un valore positivo significa che l'acqua cioè la falda sarà al di sopra del punto che stiamo considerando altrimenti al di sotto per esempio considerando il fondo nel fondo in questo caso vi è 0 quindi significa che la falda è coincidente con il fondo ma se avessimo avuto per esempio meno 1 significa che la falda si trova a meno un metro rispetto il fondo mentre se avessimo avuto un più 1 significa che la falda si trovava un metro sopra il fondo quindi in questo caso a 2 metri 3 metri scusatemi 3 metri dopodiché dobbiamo andare a inserire i parametri delle curve di ritenzione in questo caso abbiamo scelto i parametri di Vangenukten quindi avremo appunto da inserire i parametri n ed alfa ma dal momento che Nicolò ha implementato diverse formulazioni e diverse parametrizzazioni vi ho riportato qui le altre formulazioni cioè quelle di Brooks & Corey per cui si devono inserire i parametri n e cd questi parametri poi ve li forniremo noi o comunque li potete trovare benissimo su internet perché sono caratteristici anche della tipologia di suolo ovviamente quelli di Kosugi in cui R rappresenta la mediana della distribuzione dei pori mentre sigma è la sua deviazione standard e infine quella di Romano che è quella più complessa in quanto dipende da molti più parametri come vedete e ovviamente anche in questo caso no in questo caso i due le due tipologie di parametri sono dovute al fatto che secondo Romano la distribuzione può essere associata o alla tessitura o alla struttura e di conseguenza vi sono dei parametri relativi alla tessitura del suolo e altri invece relativi alla struttura infine dobbiamo inserire non infine inoltre dobbiamo inserire i parametri del contenuto d'acqua a saturazione ovviamente dimensionale il contenuto d'acqua a residuo e infine la conducibilità idraulica attenzione all'unità di misura poiché non è detto che nelle tabelle che trovate o che vi forniremo noi la conducibilità idraulica è espressa in metro al secondo quindi attenzione all'unità di misura qui deve essere espressa in metro al secondo dopodiché per quanto riguarda invece questi parametri alfa beta ed et allora et innanzitutto è una il termine non so se avete visto nell'equazione di Richards che alla fine dell'equazione di Richards vi è un più s quel più s si chiama termine sorgente e in questa formulazione può essere utilizzato per simulare in prima approssimazione l'evapotraspirazione deve essere una quantità positiva ma voi potete benissimo lasciare in questo momento zero dato che stiamo analizzando il processo di infiltrazione poi per l'evapotraspirazione ci sarà una seconda esercitazione dedicata per quanto riguarda invece alfa e beta questi sono dei parametri caratteristici della storiatività cioè come varia il contenuto d'acqua nel suolo quando le pressioni all'interno del suolo sono positive probabilmente non l'avete visto a lezione quindi potete tranquillamente mettere zero però per voi saperlo mettere zero cosa significa significa che nel momento in cui nel suolo vi sono delle pressioni positive quindi maggiori di zero il contenuto d'acqua all'interno del suolo sarà uguale a quella saturazione non potrà andare oltre quindi rimarrà uguale a quella saturazione ok fino a qua ci sono domande sui parametri da inserire vi porto nella slide iniziale in cui ci sono tutti i parametri così se ci sono domande sui singoli parametri se non ce ne continuo va bene allora per quanto riguarda quindi una volta completato la creazione del file csv dobbiamo andare ad aprire il notebook che ovviamente deve essere coerente con la scelta della parametrizzazione che abbiamo fatto in questo caso ne avevamo scelto la parametrizzazione di Vangenutten quindi all'interno della cartella che è già caricata su sf vi è il notebook per la creazione della mesh di research tramite la parametrizzazione di Vangenutten allora questi questi file notebook hanno diciamo la parte iniziale uguale per tutti dove nella prima come vedete nella slide bisogna inserire il percorso della cartella per avere un'organizzazione diciamo comune a tutti e anche molto chiara nel caso poi quando ci saranno problemi diciamo mi chiederete è importante che voi mantenate questa organizzazione cioè tutti i file di input dei file csv per la griglia noi li abbiamo inseriti all'interno del research mesh gen input che si trova all'interno della cartella che è caricata su sf quindi qui dovete inserire il percorso della cartella dopodiché il file di input del file csv che abbiamo appena creato dopodiché il il nome del file di output con tutto il percorso è una cosa molto importante da non sottovalutare è queste stringhe output title e output summary perché voi vi troverete a fare decine di simulazioni è impossibile ricordare per ogni simulazione quello che si è fatto per questo motivo siccome i file che noi creeremo sono dei file non dei semplici file csv si chiamano netcdf sono dei file molto articolati dal punto di vista informatico che vi permettono di aggiungere dei commenti quindi in output title potrete mettere appunto il titolo della simulazione che voi state facendo e cosa più importante è il summary qui è fondamentale che voi mettete delle note per ricordarvi cosa c'è all'interno di quella griglia qua per esempio abbiamo riportato semplicemente le righe del file csv dopodiché la data per ricordarvi magari quando è stato fatto e basta dopodiché all'interno del notebook dovete scegliere coerentemente con la scelta che avete fatto prima la scelta della condizione iniziale per la soluzione in cui appunto potete scegliere come ho detto prima tra profilo idrostatico profilo costante o interpolazione lineare se ci sono domande altrimenti posso qualcuno ha una domanda scusi concetta potrebbe ripetere come si determina il segno del di psi il segno di psi in che senso come si determina il sei cioè come quando è positivo quando è negativo sì ok sì quello lì ok allora allora intanto considera che considerate che fa diciamo da capo quello che è la convenzione del segno verticale che è stata inserita immaginate ora se la falda coincide con il fondo al fondo noi avremo zero come in questo caso nel caso in cui invece la falda si trova al di sopra supponiamo per esempio che la falda si trova a meno tre quindi la falda coincide con questa linea di qua noi al fondo dal momento che la falda si trova un metro sopra il fondo avremmo messo più uno ok quindi in superficie invece siccome la falda si trova a meno tre metri rispetto allo zero avremmo messo meno tre ma ci può essere il caso in cui noi invece vogliamo partire da una condizione iniziale in cui siccome sappiamo che ha più avuto siccome sappiamo che si è verificato un evento estremo una settimana prima vogliamo invece considerare che vi sono dieci centimetri d'acqua in superficie quindi la falda è sempre a zero perché tra la falda e l'acqua che si occupa in superficie c'è differenza quindi la falda è sempre a zero mentre in superficie noi vogliamo considerare che vi è una lama d'acqua quindi uno spessore d'acqua di dieci centimetri e questo lo possiamo fare perché nel layer zero mettiamo zero virgola uno quindi più zero virgola uno considerando che sopra ci sono dieci centimetri d'acqua ok grazie ok un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che nel caso in cui non vogliamo mettere valori possiamo mettere meno 999 è fondamentale però che nel primo e nell'ultimo ci siano sempre dei valori altrimenti il modello non gira perché non sa come calcolare la soluzione iniziale ma per tutte le altre per tutti gli altri layer se per esempio noi qui al posto di M avessimo avuto un altro L e non sappiamo qual è la soluzione in quel punto possiamo mettere meno 999 e il programma capirà che è un not cioè un no value non abbiamo valori in quel punto infatti non so se si vede nel sì se vedete qui nell'ultimo layer in cui appunto non abbiamo informazioni per la soluzione abbiamo inserito zero perché è fondamentale che qua ci sia zero abbiamo inserito la profondità perché dobbiamo dire fino a quando arriva la colonna di suolo fino a che profondità si estende ma per tutti gli altri abbiamo messo meno 999 ok allora una volta prof passo al notebook per creare la griglia così completo sì beh se hai finito questa parte puoi chiudere la registrazione e poi riaprire la registrazione se non ci sono domande puoi partire dalla per la spiegazione per la parte successiva insomma ok ci sono domande non ci sono domande